Io però, tanto per cambiare, la prendo un po' alla lontana. Allora, Repubblica Democratica Tedesca, permessa emigrazione diretta nella Repubblica Federale Tedesca. La Germania Orientale ha deciso di aprire il confine con la Repubblica Federale per lasciar passare i suoi cittadini che vogliono emigrare in Occidente. Lo ha detto in una conferenza stampa l'irresponsabile del Partito Comunista, Gunther Szabowski, che ha precisato che la decisione ha effetto immediato. È un lancio dell'Agenzia ANSA del 9 novembre 1989, il giorno che è caduto il muro di Berlino, delle ore 19 e 19. Alle ore 23 e 49 il titolo era Repubblica Democratica Tedesca, il corrispondente dell'ANSA portato in trionfo. E' scomparso questa settimana, Riccardo Herrmann, era il giornalista dell'ANSA che fece la domanda, quella storica giornata, al portavoce del Partito Comunista della DDR della Germania Orientale, che annunciava che si era deciso di aprire la frontiera tra le due Germanie. Lui fece una semplice domanda. Abban? Da quando? E Szabowski non sapeva cosa rispondere e non sapendo bene cosa rispondere disse da quando? Da subito. E il muro crollò. Herrmann lo cito perché per me è un eroe del nostro mestiere. Poi ha raccontato che era arrivato tardi, non riusciva a trovare posto con la macchina, per cui si era messo in piedi sul podio. Poi fu lui che capì che quella notizia era la notizia che faceva cadere il muro e doveva a dettare il pezzo col telefono in una cabina telefonica. Chi fa il nostro lavoro? Costanze, Paolo, Francesca, Diego, sa che anche trasmettere un pezzo fa parte del nostro mestiere. E quindi lui non aveva i social, non partecipava ai talk. Questa notizia sembra in apparenza data in termini burocratici, invece la notizia del secolo. E il giornalismo insomma è questo, è fare le domande, è raccontare la realtà. Il giornalismo è anche pubblicare documenti riservati che il potere non vuole pubblicare. Per questo Giuliano Assange va liberato. E quella domanda allargò il cuore del mondo perché quella domanda fece cadere il muro, spalancò il muro di Berlino. Nell'Europa 2021 i muri sono tornati, sono tornate le barriere, sono tornati i fili spinati e questa volta sono tornati con il permesso dell'Unione Europea. Per questo in molte città italiane, in molti presepi, si stanno accendendo le luci verdi, le lampade verdi, piccole luci come questa, l'accendo anch'io, eccola qua. A Roma la sta distribuendo un'associazione che si chiama Europa Now, la distribuirà domani sulla Via Appia, poi in Piazza del Popolo, davanti alla chiesa di Don Ercole Ceriani da cui è partito tutto. Insomma, quell'Europa è stata per noi la patria dei diritti. E dico questa parola, patria, non a caso perché questa è la settimana in cui Giorgia Meloni ha chiesto un presidente patriota. Allora, patria è una parola bellissima e patrioti sono stati i risorgimentali, i mazziniani, i garibaldini, i partigiani. Però si sono considerati i patrioti anche quelli che hanno consegnato la patria, ad esempio i nazisti, quelli che sono scappati l'8 settembre del 1943, quelli che hanno firmato le leggi razziali. Patrioti si chiamavano tra loro gli iscritti alla loggia massonica P2, tra cui quell'iscritto che aveva la tessera numero 1816 e che oggi è uno dei candidati alla presidenza della Repubblica. Forse è lui il patriota che ha in testa Giorgia Meloni. E questi patrioti furono sbugiardati da una donna, la presidente della commissione d'inchiesta sulla P2, Tina Anselmi, che lei sì sarebbe stata un'ottima presidente della Repubblica già 30 anni fa. Patriota è stato un uomo di destra, era iscritto al partito monarchico, Giorgio Ambrosoli, era il commissario liquidatore della banca di Sindona, che fu ucciso dalla mafia l'11 luglio 1979 e prima di morire aveva scritto una lettera alla moglie Lori dove diceva per i suoi figli abbiano coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia nel senso trascendente che io ho, verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa, perché non c'è differenza tra l'Italia, l'Europa o il mondo. Chi è cittadino dell'Italia, un cittadino dell'Europa, è un cittadino del mondo. E allora patrioti sono oggi i lavoratori che combattono per il loro posto di lavoro, dell'Embraco, di Ita, di Caterpillar. Patrioti sono quelli che vivono nelle nostre scuole, nelle nostre fabbriche, nelle nostre case e che aspettano la cittadinanza. E allora ben venga un presidente patriota che rappresenta tutti loro. dobbiamo riprenderci le parole che sono state abusate o strappate, stravolte fino a renderle irriconoscibili, diceva una poesia di Brecht. La libertà, la democrazia, a un certo punto si sono presi anche il Natale. Il Natale è diventata una parola politica che divide. E no, il Natale è di tutti. Per questo buon Natale e accendete una luce verde. Grazie a Marco da Milano.